Don Roberto Tomaino, siamo qui allo stadio Antonio Leo per il Memorial Angelo Colosimo e Sandro Spina. Siamo qui per ricordare, siamo qui per riunirci insieme come comunità cristiana, come comunità anche civile di Sovaria Mannelli, per ricordare due persone che hanno creduto tanto nel calcio, che hanno fatto la storia del calcio alla nostra comunità e per noi ritrovarci insieme e rivivere quelle stesse passioni nel loro nome, insieme con loro, nel ricordo e nell'amicizia è un motivo anche per non dimenticare tutto il bene che è stato profuso e realizzato in questo campo attraverso il calcio nella nostra città, il calcio che fa parte dell'identità della nostra comunità e allora ci ritroviamo insieme per ricordare, per ringraziare il Signore del dono della vita di queste persone e del bene che hanno fatto dentro questo campo e in questa scuola calcio e della nostra Garibaldina. Grazie